Sono arrivati da tutti i comuni della provincia di Palermo per rivendicare il diritto al lavoro. Traffico in tilte nel centro di Palermo dove quasi 2000 forestali hanno manifestato a Piazza Indipendenza, davanti alla sede della Presidenza della Regione. A prendere parte alla mobilitazione indetta da Flai CGL, Fai Cisle e Willa Will sono i cosiddetti 68isti. Gli stagionali che effettuano le 78 giornate lavorative previste dalla legge 14 del 2006, ma che ne hanno portate a termine solo 28 e sono stati poi sospessi dal lavoro. La situazione ormai drammatica, denunciano i sindacati. Dopo tanti incontri e numerose promesse, Procetta non ha ancora mantenuto gli impegni presi. I forestali lanciano un ultimatum, esigono una risposta sul loro futuro entro un paio di giorni o la mobilitazione continuerà. Domani è prevista un'altra manifestazione regionale, alle 16 sotto l'Ars, con i 9.000 stagionali siciliani delle 78 giornate. Intanto l'Aula dovrebbe votare a breve la legge che sposta 19 milioni di euro dalla Crias ai forestali.